Anche il centro dell'Aquila è stato toccato dall'iniziativa Due Passi in Centro, una campagna organizzata da Senior Italia Federanziani in 80 città su tutto il territorio nazionale, che ha lo scopo di promuovere l'attività fisica e il miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita dei senior. Un'occasione per trasmettere il concetto della salute attraverso il movimento, unito alla socializzazione della camminata, che risulta a volte un mezzo per evitare la solitudine. Alla fine della passeggiata si è svolto il convegno in cui i medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila hanno spiegato la relazione che esiste tra il movimento e la salute negli anziani. Dunque l'Aquila ha una valenza non doppia e triplice in questo caso. Noi questa iniziativa la stiamo facendo in 80 province italiane. Confesso che l'indicazione nazionale è stata di farla anche all'Aquila, l'avevamo già fatta a Pescara. Se mi avessero detto di non farla l'avrei fatta comunque io. Perché due passi in centro all'Aquila significa riportare un sorriso tra le ferite. Cioè questa città che io ho rivisto in centro ieri sera è una città commovente, quantomeno lo è il centro storico ma anche il resto. Questa passeggiata simbolica stamattina a me ha messo allegria e mi ha fatto pensare che in tempi brevi, molto brevi, lo splendore di questo pezzo di strada che forse è proprio il simbolo dell'Aquila tornerà a sorridere anche grazie ai nostri anziani. Grazie. Grazie.